ciao ciao a tutti una settimana fa ho acquistato dei slime appunto oggi volevo fare il video di aprirli con voi per vedere come sono sono questi non mi ricordo il prezzo di quando l'ho pagati sinceramente però dovrebbe essere una pasta fluffy slime è così ho tolto già la plastica attorno per fare più presto ad aprirli e adesso vediamo come sono vedo che sono liquidi sono così di quattro colori adesso andiamo a prendere uno un odore di gomma big bubble si sono un po immischiati i colori perché assente che piccolo il scatolino questo è giallo un po la consistenza morbida però non è che si allunga fa un po fatica allungarsi forse lo dobbiamo mangiare un po con le mani non lo so vediamo se scoppietta poi andiamo a prendere un altro che è verde c'è un po di liquido non so se è così ma da come vedo stanno le gocce verdi che è quello tipo quello verde c'è tipo quello là un po bagnatice una cosa del genere non mi ricordo come si chiamano che uscì all'inizio insomma pure questo è morbido cioè la consistenza è morbida proviamo questo è più morbido questo è rosa adesso c'è il celeste il celeste il celeste vediamo questo fa minor mure rispetto agli altri anzi non vedo proprio che fa mure comunque c'è il mio preferito è questo rosa cioè mi piace di più che si allunga si si allunga è molto allungabile però questi qua neanche c'è male però questo qua lo vedo più morbido rispetto agli altri che si riesce a salungare il rosa non vedo più 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 così 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 e niente io spero che questo video vi sia piaciuto vi sia io ho tenuto compagnia di della nuova apertura degli slime questa è una pasta slime fluffy slime e niente se questo video vi è piaciuto mettete sempre un like facciamo arrivare questo video non so un sacco di like e vi porterò un nuovo video dove magari li mischerò tutti tutti e quattro i colori oppure andiamo a fare delle modifiche un nuovo video dove faccio le modifiche di ammorbidirli un po' di più e con questo vi auguro buona giornata ciao 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 ciao